Con Mirrors, Justin Timberlake si aggiudica l'edizione 2013 degli MTV Video Music Award. In cassa il premio per il Video of the Hero tiene riconoscimenti Best Direction e Best Editing. Il Best Male Video è andato invece a Bruno Mars per Locked Out of Even e l'analogo riconoscimento alla femminile è stato assegnato a Taylor Swift per A New You Were Trouble. Ad animare lo show i rinotti al Barclays Center di Brooklyn ci hanno pensato Lady Gaga in apertura e Katie Perry in chiusura. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!